I protagonisti della sessione di autografi del giovedì sera sono Juan Manuel Vagas, fresco del gol del 3-2 contro il Verona, e Nenad Tomovic, che ha procurato un rigore e giocato un cosiddetto partitone. Ecco i loro commenti alla vigilia della Roma. Penso che il protagonista siamo tutti, ognuno fa il suo e l'importante è che le squadre vada bene. Come ti sei trovato nel ruolo di terzino puro che era qualche anno dove non giocavi? Sì, non ho giocato in quel ruolo, non ho giocato tanto tempo, però in questo momento se il mister ha bisogno io sono a disposizione in ogni ruolo che lui ha bisogno. Senti Juan, non c'è neanche il tempo di essere contenti per il quarto posto dell'Italia sul Verona, che c'è un avversario importante domenica, la Roma. Ti chiedo quali sono le difficoltà della gara contro la Roma e poi visto che tu te ne intendi, la Fiorentina in Champions League che ci hai giocato, che cosa vedi di qualità in questa squadra? Io penso che adesso noi abbiamo cancellato subito la partita con Verona, pensiamo adesso alla Roma. Io penso che la Roma è una squadra che ha tanti giocatori bravi, una squadra che sta lottando pure per il primo posto in classifica. e noi pensiamo a far bene, noi pensiamo ad andare lì e giocare la nostra partita. Io penso che questa Fiorentina deve continuare così, umile e lavorare, perché il campionato è lungo. Se adesso iniziamo a parlare troppo presto, alla fine non finisce bene. Adesso dobbiamo continuare così, lavorare, umile e che piano piano possiamo arrivare a fare grandi cose. A proposito di Roma, forse uno dei gol più belli che hai segnato a Firenze, proprio al Franchi, è stato contro la Roma una partita vinta 4 a 1 che ha segnato anche la corsa di quella Fiorentina verso la Champions. Se te lo ricordi e se speri di rigiocare naturalmente. Sono un bel ricordo, però quel ricordo è passato. Adesso è diverso, pensiamo a fare una gara importante domenica e continuare così, perché penso che ogni settimana, ogni partita sono dure a tutti. Allora noi adesso pensiamo alla Roma e a far bene. Vorrei partire dalla gara contro la Roma. Quali sono le insidie? E poi soprattutto ti chiedo se hai sentito Adem Lijac e cosa ti aspetti da lui, visto che è il grande ex. Prima rispondo su questo, ancora non ho parlato con lui, forse è anche meglio non parlare prima della partita. Sicuramente lui è un grande giocatore e sicuramente anche lui è molto motivato a fare bene contro di noi, anche se ha giocato qui tanti anni. Però non è solo lui uno che ci mette in difficoltà, ci sono tanti bravi giocatori e poi noi siamo pronti a rispondere anche con le nostre forze. Senti, Nenad, lunedì sei andato vicino a segnare questo tormentone del gol e ti sei procurato quel calcio di rigore, insomma, sei stato proprio a un passo. Sì, ma è andata bene, anche se sono stato sfortunato e non ho fatto gol che mi manca da tanto tempo. Però sono contento della mia prestazione e soprattutto della vittoria che è più importante. Senti, lunedì, domenica con la Roma, secondo te, è una gara decisiva per cercare di accorciare, visto che ci sono sette punti? Ma no, come ha detto Manu, il campionato è lungo, quindi ogni partita sicuramente è molto importante, però c'è ancora tanto da giocare. Sicuramente se facciamo un ottimo risultato contro loro abbiamo anche più possibilità di raggiungere il nostro obiettivo. Senti, lunedì sera mi hai detto che non hai dimenticato tutte e tre le sconfitte dell'anno scorso contro la Roma. C'è un voto che faresti in caso di vittoria sulla Roma, qualcosa a cui rinunceresti pur di battere la Roma? Ma sicuramente pesano tanto quelle sconfitte, però facciamo tutto per vincere anche su questo aspetto.